Personal Branding, comunicazione, podcast, per passione lancio sassi in uno stagno e guardo le onde che si propagano. Questo è il mio podcast e io sono Cristian Tava. Buongiorno, buongiorno, benvenuti in questa nuova versione del podcast di Cristian Tava che sono io e abbiamo deciso proprio di dare una veste nuova, di dare un po' di aria fresca e in questo caso abbiamo voluto invitare, abbiamo, ho voluto invitare una cara amica nonché collega, Simona Mapelli, ben trovata. Ciao Simona. Ciao Cristian, grazie mille di questo invito. Grazie a te, grazie a te e ho scelto te per aprire un po' questo nuovo corso proprio perché intanto abbiamo lavorato insieme e quindi ci siamo anche potuti conoscere dal lato umano che sai che per me è molto importante. Ma poi nutro molta stima per te come professionista, ho visto come lavori, so come ti impegni a trovare soluzioni quindi questo mi è piaciuto. Mi piaceva coinvolgerti proprio nel raccontare un po' quelle che sono le fatiche del lavoro del comunicatore che oggi più che mai è invece un mestiere molto attuale ma anche molto difficile. Tu come la senti questo ruolo, questo peso sulla spalle? È vero, allora tutti siamo dei comunicatori perché poi in realtà tutti comunichiamo tra di noi. Quindi a questo punto farlo professionalmente risulta doppiamente difficile. Ancora più difficile se consideriamo a tutto quello che è la comunicazione digitale, alla diffusione, a dove si può arrivare, con quante persone ti metti in contatto e a maggior ragione quante persone fanno comunicazione proprio perché le piattaforme, l'audience è veramente veramente vastissimo. Comunicare secondo me da una parte è una giungla, dall'altro è in realtà incredibilmente stimolante, incredibilmente bello e ci sono tantissime possibilità di cose da fare e ci sono tantissime cose da ascoltare, da leggere, da sentire, da imparare e questa è la cosa bella poi del lavoro che facciamo. Ma quindi comunicare secondo te è facile? Domandone. Che domanda Cristian! Mi sento marzullo in questa nuova veste. Sì, infatti. No, ti faccio questa domanda perché il mio lato critico e criticone e insopportabile ogni tanto viene fuori e vedo degli strafalcioni della comunicazione in giro, ma anche da realtà professionali, quindi la facilità della comunicazione non è secondo me data solo dallo strumento, gli strumenti ne abbiamo tanti, come hai detto anche giustamente tu. Dov'è la difficoltà secondo te della comunicazione? Eh, infatti la risposta secondo me è questa. Comunicare è facile? Sì. Comunicare bene è facile? No. Arrivare, arrivare, centrare un punto, raggiungere un obiettivo, far percepire un messaggio con la comunicazione è facile? No. Questa è la differenza perché, appunto, comunicare di per sé oggi è assolutamente semplicissimo. Farlo bene, farlo con un senso, con un obiettivo, comunicare dei valori, trovare le persone che più sono affine a noi, questa è la cosa difficile della comunicazione. Fai bene ad essere criticone su questo. Sì, ma sono anche insopportabile, mi rendo conto, perché a volte esagero, comunque hai ragione. Senti, a chi non ti conosce, a quei pochi che ancora non ti conoscono sulla rete, vuoi spiegare il tuo lavoro in cosa consiste, anche per far capire perché ti ho chiamato a parlare di comunicazione e poi anche di community? Sì. Allora, il mio lavoro principale consiste nel lavorare con le aziende o con i professionisti. Il nostro è stato un bellissimo incontro tra professionisti, però principalmente io lavoro con le aziende su tutta quella che ha la loro parte di comunicazione digitale, che possono essere dei contenuti per i social, che possono essere dei contenuti per il blog, che può essere anche la comunicazione interna, perché mi è capitato di farlo, faccio molto anche questo. Che è fondamentale in un team, in un'azienda, cioè la comunicazione interna spesso viene sottovalutata e riportata a dei messaggi su WhatsApp molto veloci, ma tu stessa sai che invece ha un ruolo veramente determinante per tenere aggiornato, entusiasta il team. Esatto, esatto. Io mi ricordo una cosa molto divertente che mi hanno detto una volta degli ex colleghi, dove nelle aziende tendenzialmente c'è sempre questa spaccatura tra chi fa la parte operation, comunicazione, marketing e chi fa il commerciale, e io ovviamente ero dalla parte comunicazione e operation. Quando inviavo le email ai commerciali, ho capito che dovevo sfruttare le mie capacità di comunicazione persuadiva, quindi gli mettevo degli oggetti email che non potevano ignorare, e gli scrivevo il testo dell'email che non potevano ignorare. E questa cosa non è passata inosservata, e infatti molti di loro mi hanno detto noi aspettiamo le tue email in cui ci spieghi come dobbiamo fare le cose. Strategico bellissimo. Esatto, esatto, questa è stata una cosa molto bella. Quindi sì, il 90% della mia professione è questa. Fare community management è una parte della mia attività, lo faccio con il bellissimo gruppo di freelance network che conosci anche tu. Certo. E questa è stata una grandissima sfida in realtà, perché insomma anche in questo caso gestire una community è considerato tra l'altro uno dei lavori del futuro, e io facendolo ho capito che effettivamente è così. Perché quando gestisci una community tu devi creare innanzitutto un clima di fiducia verso le persone che sono all'interno del tuo gruppo. Questa è la prima cosa, perché a meno che non siano quei gruppi dove poi si butta sempre in cacciara, quindi tutti si sentono legittimati a scrivere qualsiasi cosa, a polemizzare su qualsiasi cosa, eccetera. Quando invece l'impostazione è diversa, l'impostazione è fatta sull'informazione, sulla condivisione, sullo scambio, sul mutuo soccorso, sul mutuo aiuto, e allora lì è importante fare tutto un lavoro di fiducia, dove le persone si sentono a loro agio, dove sanno di poter effettivamente trovare quello di cui hanno bisogno. Che poi, scusa se ti interrompo, ma mi viene da dire, in realtà stavo pensando mentre parlavi, conoscendo freelance network e conoscendo altre community, in realtà puoi acquisire un'esperienza di base, ma quello che tu poi stai sviluppando, probabilmente facendo questo lavoro, è una competenza storica, nel senso che ogni community è fatta da persone che saranno quasi sempre diverse, e ogni volta, siccome proprio la community è fatta di persone, non di algoritmi, ogni volta tu devi in qualche modo reimparare a comunicare nel modo giusto con le persone che hai davanti. Quindi la prossima community che andrai a gestire è un percorso comunque di crescita, di conoscenza, di apprendimento, e in progressione. Ecco, non credo che basti dire gestisco già una community, ne faccio altre cinque, tanto è uguale. Sbaglio? No, 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 assolutamente sono d'accordo, anche perché poi i temi che si fanno toccare probabilmente sono diversi, gli utenti che si trovano, le persone poi, adesso utenti, non siamo abituati a chiamarli utenti quando abbiamo a che fare con l'online, con i social network, ma di base, cioè siamo persone, non siamo tutti bot ancora, ma le persone sono diverse, hanno esperienze diverse, hanno anche un approccio diverso dal nostro, uno stile linguistico diverso, quindi insomma bisogna anche essere come sempre, come tutto quello che ha a che fare con la comunicazione fatta bene, prima di tutto bisogna stare in ascolto, secondo me. Bravissima! Volevo suggerirtela io questa cosa, ma mi hai anticipato, ma credo che sia un tema molto, molto, molto importante, quindi ascolto e poi linguaggio adeguato a quello che è la realtà che hai di fronte, sono i due aspetti fondamentali proprio in questa gestione. Ma quali sono le criticità invece che ti trovi davanti a gestire una community? Poi una community noi ci immaginiamo il gruppo Facebook probabilmente, invece immagino nella tua testa la community è multicanale, è online, offline, cioè non è solo il gruppo Facebook riduttivo. Assolutamente, cioè il gruppo Facebook poi può essere il punto di partenza, può essere il mezzo per far conoscere e portare più gente possibile a conoscere quello che è il progetto, però poi secondo me il concetto di community veramente si deve diffondere sul multicanale e assolutamente anche nell'offline dove è possibile, proprio perché rimaniamo persone, rimaniamo umani, rimaniamo esseri sociali. La cosa più difficile, beh, io credo sia quella del, dello stimolare costantemente anche gli altri a mettersi in gioco e a mettersi in gioco per il bene degli altri, non solo per una questione di, adesso magari narcisismo è un po' esagerato, però spesso sì. Ego centrismo. Esatto, egocentrismo, spesso la prima cosa che si fa è entrare in qualsiasi gruppo, in qualsiasi community, in qualsiasi social per farsi vedere, per trovare clienti, per mettersi in mostra. E invece anche in questo secondo me l'ascolto è sempre prima importante, il dare prima di ricevere è altrettanto importante e quindi trasmettere questa cosa come community manager, quindi non arrivate qui solo per mettere il vostro post su faccio questo, scrivimi se hai bisogno, ma prima di tutto farti conoscere, raccontare chi sei, aiutare magari proponendo una lettura di qualcosa di interessante, dando un punto di vista, condividendo un'esperienza, quindi facendosi conoscere veramente come persona prima di chiedere invece qualcosa in cambio. Certo. Questa è secondo me la parte più difficile. Sì, la community è probabilmente uno scambio bidirezionale, il community manager è quello che fa un po' da maestro di tavola, cioè aiuta le persone in realtà ad andare nella giusta direzione o fornire le giuste informazioni, non è un call center che risolve i tuoi problemi o ti mette un post sulla baccheca degli annunci lavoro, ecco, quindi è un livello ulteriore. Hai detto bene prima che comunque è un tipo di competenza e di professionalità che ci accompagnerà molto probabilmente nei prossimi anni e immagino un po' complice anche il Covid che ci ha portati durante quest'anno a perdere un po' la bussola, a perdere un po' io lavoro in un co-working come sai e noi siamo abituati ad andare in ufficio, prendere il caffè eccetera e hai comunque un momento di contatto, di confronto. Il community manager deve gestire tutto questo nella nuova visione di quello che è lavoro agile, smart working, lavoro da casa, lavoro da remoto eccetera eccetera e non lo vedo facile, ecco, non è una cosa aperta a tutti e ci vuole sensibilità forse in questa tua avventura. Sì, ecco, infatti a proposito di competenze del futuro, di lavori del futuro, tutti parlano di soft skills, tra cui l'empatia, questa capacità di ascolto eccetera eccetera. È una persona che fa il community manager un po' come chi fa servizio clienti alla fine e anche lì farlo bene non è facile, se ne trovano pochi di servizi clienti fatti bene, bisogna avere tutte queste caratteristiche. Bisogna veramente scavare a fondo in se stessi e chiedersi se si è capaci di fare questa cosa, di dare sempre una risposta a chi scrive, dare sempre un feedback, cercare di spiegare il perché no e il perché sì. Come hai fatto con me l'altro giorno? Raccontiamo questo piccolo anno e ho lanciato un post che è stato da te moderato e sei stata bravissima comunque a dire no guarda attenzione che questa cosa qui è prevista solo in un giorno specifico, ti allego il regolamento, se hai bisogno chiamami, contattami, insomma, e quindi sei stata molto pronta e veloce nella risposta e nel gestire poi comunque anche il mio dispiacere di non poter fare quell'azione che volevo fare in quel momento assolutamente. Perché poi le persone che sono nella community vivono le loro piccole frustrazioni, e anche questo bisogna essere capaci di, invece di farli sentire comunque parte di qualcosa, anche se ti devo dire no guarda non lo puoi fare. Senti, ma è un'altra cosa che ti volevo chiedere però è qual è stato il tuo percorso formativo per sviluppare queste competenze? Cioè io domani volessi fare community manager, un nostro ascoltatore vuole diventare community manager, diceva sì io faccio tutti i corsi LinkedIn, Facebook, c'è, so tutto, sono un grande tecnico, so fare le campagne, ma cosa mi manca? Come mi posso formare? Tu hai una scuola che... Allora già se ha fatto tanti corsi, se so fare campagne, già è più bravo di me. Quindi no, adesso a parte gli scherzi. Allora questa è una di quelle professioni in cui c'è da chiedersi, servono tutti i corsi di specializzazione del mondo? Non lo so, nel senso che un minimo bisogna essere consapevoli del social network su cui ci troviamo, quindi bisogna conoscerlo un pochino. Bisogna conoscere le regole base della netiquette. Anche qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio, comunicare è facile, comunicare bene non è così facile, soprattutto su internet. E infatti poi viene fuori internet brutto, sporco e cattivo, perché i leoni da tastiera, perché tutti si sentono legittimati. è vero, è vero c'è anche questo, ma ci sono anche invece dei posti bellissimi dove ci si confronta tra persone educate, a modo, e che conoscono veramente le regole base di stare su una piattaforma online, che non vuol dire mettersi davanti a uno schermo e pensare di non avere nessun filtro, pensare di poter dire quello che si vuole. No, bisogna sempre anche in questo caso mettersi in ascolto e farsi delle domande, perché questa è l'altra cosa che non ho detto prima, ma che io trovo sempre molto interessante. Prima di scrivere, prima di dire qualsiasi cosa, magari mi faccio una domanda, che intanto può essere quello che sto per scrivere, quello che sto per dire, quello che sto per trasmettere agli altri. Quindi, è utile? Giusto. Prima domanda. Prima domanda. Seconda domanda. A chi serve? Esatto, seconda domanda. Lo sto, mi sto mettendo in una condizione di apertura a un dialogo? E è uguale quando rispondo? Cioè, sto rispondendo in modo da mandare avanti un dialogo, un dibattito? Oppure, esatto, oppure sto semplicemente scrivendo tanto per scrivere, tanto per fare flame, tanto per creare un po' di polemica. C'è un corso che insegna questo, Cristian? Tu lo conosci? Certo, te lo stavo per chiedere. Temmo di no, è un aspetto molto sottovalutato, invece sarebbe davvero una leva proprio per trasformare la nostra comunicazione in generale, e renderla più efficace sugli strumenti social. Cioè, come ho detto prima, il social non è il diavolo. Il cattivo uso del social fa sì che diventi un immondezzaio, ma è letteralmente uno strumento. Quindi, se noi abbiamo la capacità di gestire proprio la conversazione, l'ascolto, eccetera, ma purtroppo non esiste un corso unico. Io dico sempre... No, non esiste. Io dico sempre comunque che il grosso del lavoro da fare è proprio questo, di trovare quella capacità di essere più empatici. So che è abusata come parola, ma è veramente difficile, è un tema tosto. I due temi sono l'empatia e la qualità dei contenuti, secondo me, sul web. Più che essere bravi a fare le campagne Facebook o altro, su queste cose le persone, tutti noi dovremmo comunque dedicare del tempo, come se fosse una palestra. Quindi, imparare dagli errori, tentare e poi correggere quello che è stato il tiro, vedere l'effetto che hanno le nostre sensazioni, emozioni. Ti porto però anche un altro esempio. Io ho un amico, per esempio, che voglio un gran bene, ma a volte abusa dello strumento. Quando uno mette un consiglia sul suo post di LinkedIn, lui aggiunge sotto, grazie per aver consigliato il mio post, che anche questa però è una comunicazione vuota, non arriva, secondo me, a destinazione. Cioè, sembra un po' come il come stai quando incontri qualcuno. Come stai? Ah, bene, grazie. In realtà non te ne frega niente di come sta e l'altro non ha voglia di raccontarti davvero. Quindi anche questa comunicazione non è solo quella cattiva, ma è anche quella vuota, secondo me, che va un po' corretta, va un po' sistemata. Sì, guarda, probabilmente hai ragione. C'è un tema rispetto a questa cosa che hai detto, no? Di mettere i like ai post, che ho letto di recente, che è un modo un po' passivo di vivere la nostra vita online. Nel senso, io sono bombardata da centinaia e centinaia di contenuti al giorno, li leggo distrattamente, leggo un titolo carino, boh, gli metto il like, però non ho fatto un commento, non ho dato un punto di vista, quindi significa che comunque non ho approfondito. Questo purtroppo fa parte del fatto che veramente noi siamo circondati da tantissimi contenuti, non possiamo prestare attenzione a tutti. La soglia di attenzione online inevitabilmente scende, scenderà ancora, anche di questo ho letto un sacco, continuerà a scendere. E qui bisognerà fare una grandissima battaglia tra comunicatori capaci, di cui spero di far parte, di continuare a far parte in futuro, sulla qualità. Non fa niente se scendono le metriche, non fa niente se ci sembra di non avere quel ritorno rispetto all'impegno che ci mettiamo, ma non dobbiamo mai scendere a compromessi con la qualità, perché andare a fare una lotta sul clickbait non ha senso secondo me. Allora scegliamo altri mezzi di comunicazione. Infatti, oltretutto l'algoritmo di ogni social, di Google e tutta la famiglia diciamo di social media è cattivo, cioè ti giudica semplicemente per in qualche modo la tua inerzia nel farsi trascinare, mentre l'algoritmo umano dovrebbe portarti invece a creare proprio quello che dicevi tu, lo scambio, commento la tua notizia, la critico anche, la giudico, ma apro un confronto, altrimenti non cresciamo mai, senza questo. Quindi hai una grande responsabilità. Pazienza, ci vuole pazienza, ci vuole costanza, siamo nel 2021, non si può essere pionieri di tutto, ma questo non significa che non bisogna iniziare a fare delle cose che già esistono, solo perché ce ne sono tantissime altri che lo fanno. Bisogna sempre trovare il proprio spazio nel mondo. Giusto, mi piace questa chiusura in qualche modo di questo podcast che stiamo portando verso la fine. Simona, ci hai fatto un bello spaccato, ci hai raccontato una visione meno tecnica, più umana, era proprio quello che volevo, non era preparata, quindi siamo andati anche molto a braccio su questa chiacchierata, ma tu sapevi dove volevo arrivare, quindi sei stata doppiamente brava nel farmi pensare. Assolutamente, perché l'abbiamo detto all'inizio che noi abbiamo anche lavorato insieme e una cosa su cui ci siamo ritrovati è la relazione umana. Certo, cioè io mi ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati quando tu mi hai raccontato tutte queste idee e io subito ho notato questo filo conduttore della relazione umana su cui secondo me vale la pena, vale la pena continuare. Certo. Continuare, assolutamente. benissimo, mi piace, mi piace, ti ringrazio davvero. Allora, hai portato una bella testimonianza, dove ti si può seguire? Dov'è che sei più attiva tu nella tua comunicazione? Se dovessimo dire a qualcuno vuoi provare Simona Mapelli? Io sono la figlia del calzolaio con le scarpe rotte. Sono brava a farlo per gli altri e mi impegno poco su me stessa, però no, su LinkedIn, penso di essere più attiva su LinkedIn. Ok, ok. Bene, allora cerchiamo Simona Mapelli su LinkedIn, poi metteremo se Simona ha piacere anche il link nella descrizione e complimenti davvero per questa avventura che io seguo un po' da spettatore sulla community di Freelance Network che stai facendo, ma noto l'impegno, la differenza, la qualità proprio di quello che fai ed è il motivo per cui ti ho voluto qui a fare due chiacchiere, a portare una testimonianza vera e di qualità e poi ecco anche l'amicizia che ci lega ha aggiunto un valore ulteriore e quindi posso solo ringraziarti. Grazie, grazie ancora veramente. Poi vabbè è una prima volta non ero mai stata intervistata per un podcast quindi mi hai regalato anche questa prima volta. Ho piacere, ho piacere anche di questo. Benissimo. Simona, grazie a tutti gli ascoltatori che sono in linea o che ci ascoltano in differita e rimando al prossimo episodio e cercando sempre di trovare nuovi professionisti come Simona che portano la loro storia, il loro racconto, la loro emozione nel fare proprio comunicazione e questo fa davvero la differenza. Alla prossima! Arrivederci! Arrivederci!